Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo in Lorenz e che robe? Adesso vi portiamo questo piccolo mazzo Commander prima del Command Fest Sono due comandanti con partner da Commander Legends, la prima insomma E allora, sono Arden e Rockrag Allora, la strategia è molto semplice Allora, abbiamo Rockrag che è lanciato a zero Ha tante abilità come attacco improvviso, minacciare e travolgere Quindi è già bello carico di suo Giocato in combinazione con Arden, l'archeologo intrepido Arden ci permette all'inizio del combattimento di assegnare un qualsiasi numero di aure e equipaggiamenti che controlliamo A un permanente o un giocatore bersaglio Quindi, molto semplice Caliamo tanti equipaggiamenti ed aure E con Arden li carichiamo su Rockrag o su altre creaturine per fare danni letali ai nostri avversari Mettiamo qui sopra i comandanti a portata Allora, inizierei a guardare la sezione degli equipaggiamenti, gli artefatti equipaggiamenti e poi delle aure Che così abbiamo sott'occhio un po' le cose che caricano il comandante Allora, Butterbone, costa 2, Living Weapon, quindi quando entra crea un germe 0-0 e gli equipaggia La creatura ha più uno più uno, cautela e la game vitale Altrimenti si equipaggia a 5, ma noi consideriamo che il costo dell'equipaggiamento lo ignoriamo grazie ad Arden Shadow Spear, la creatura equipaggiata più uno più uno, travolgere e Lifelink Tappando 1, i permanenti controlli perdono... No, i permanenti degli avversari perdono Explosive e indistruttibile fino alla fine del turno Equipaggia a 2 Martello da guerra dell'osso d'onte, costa 3 La creatura equipaggiata più 3 più 0, travolgere e legame vitale Bellissimo Mica male Maschera di Avacin, la creatura equipaggiata più uno più due e antimalocchio, quindi anche un po' elusiva Black Blade Reforged, la creatura equipaggiata prende più uno più uno per ogni terra che controlliamo Mica male Anche questa molto potente La creatura equipaggiata prende più uno più zero e ha rapidità Anche questa valida, visto che il comandante non è rapido Mazza della Meteora, la creatura equipaggiata prende più 4 più zero e ha travolgere Equipaggia a 4 e in più a cascata Quindi quando la lanciamo probabilmente caliamo giù un qualcosa di interessante Perché costa 6 e nel nostro mazzo mi sa che questa è quella che costa di più Quindi penso che qualsiasi cosa la riusciamo a calare Poi la lama dell'eroe La creatura equipaggiata prende più 3 più 2 Quando una creatura leggendale entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo Puoi assegnarle la lama dell'eroe Questa cosa è valida perché mettiamo il caso che magari ci hanno distrutto Arden e giochiamo prima Rockrag Almeno gli assegniamo un più 3 più 2 Quindi diventa un 3-3 Diventa un 3-3 almeno è già un po' fastidioso Poi acciaio solare rovente Costa 2, la creatura equipaggiata prende più 1 più 0 per ogni avversario che hai Quindi anche questa mica male Ogni volta viene inflitto danno alla creatura equipaggiata Essa infligge altrettanti danni a un qualsiasi bersaglio Quindi non male neanche questa Solo costa 2 Se te la bloccano spari danni Ah sì sì, se subisce danni lì ne spara altrettanti Pirostrillo La creatura equipaggiata a doppio attacco Puoi equipaggiare a 2 Mi ha messo lo Skullclam Che comunque è sempre utile perché potenzia un po' E ci salva nel caso Subissimo da... Ce lo distruggessero Pischiamo 2 carte Mantello infestato La creatura equipaggiata a cautela, travolgere e rapidità Quindi utile anche questa E comunque equipaggia solo ad 1 Quindi non è male La corazza del comandante La creatura equipaggiata a prendere più 3 più 3 A protezione da ogni colore Che non è dell'identità del tuo comandante Quindi in sostanza c'è la protezione dal verde, dal blu e dal nero Cosa non male Spada della vendetta La creatura equipaggiata a prendere più 2 più 0 E ha attacco improvviso a cautela, travolgere e rapidità Quindi questa da tutto Quindi non fa schifo neanche questa E la corazza dei dasti Che dà indistruttibile ed è indistruttibile Questo è il comparto degli equipaggiamenti Già ce ne sono stati C'è naturalmente una versione di quelle low cost Non ci sono spadone super che fanno mille cose Però abbiamo anche una nutrita sezione di auree Che sono molto interessanti Beh giusto qui Che robe mi fa notare che non avevo messo gli stivali piede lesto Che erano nella sezione degli artefatti normali Per forza dell'abitudine E comunque tanti malocchi o rapidità Equipaggia 1 Quindi un'ottima protezione per il comandante Esatto Allora Passiamo alle aure Shielded by fate Costa 3 Incanta e creatura La creatura è indistruttibile Quando una creatura entra nel campo di battaglia Può attaccargli shielded by fate Quindi utile perché possiamo proteggere le creature E cambiare continuamente il protettore Benedizione benevola Incanta creatura Se quando entra sceglie un colore Entra con lampo E la creatura è incantata Protezione del colore scelto E non rimuove però auree di equipaggiamenti Che controlli già assegnati Quindi molto interessante Sigillo tempestivo Può lanciare questa magia come se avesse lampo Se bersaglia un comandante Incanti creatura La creatura è incantata Ha indistruttibile Quindi anche questa molto bella Per fare diversi trick Questa non è un'aura che bersaglia le nostre Ma è un'aura per segare le gambe Ai comandanti degli altri Visto che trasforma una creatura In un insetto 0-1 indistruttibile Che perde tutte le abilità I tipi di carta e di creatura Quindi un ottimo malus per gli avversari Autorità indiscussa Quando entra peschiamo una carta E la creatura è incantata A protezione dalle creature Quindi anche questa non male Sulle ali di serra Costa 4 La creatura è incantata e leggendaria Prende più o più uno A volare cautela Legame vitale Quindi anche qui una bella scorta Di abilità Manto spirituale Incanta la creatura Prende più o più uno E ha protezione dalle creature Quindi le aure sono per lo più A livello protettivo Equipaggiamenti A livello di potenziamento Proprio delle Forza e costituzione Con più abilità Insomma Adesso diamo una rapida occhiata Alle comparto creature Che è incentrato Diciamo sul raccogliere Equipaggiamenti e aure Per ottimizzare il tutto Principalmente è composto Da guerrieri E umani Mi sembra Partiamo con un Artificiangelo Che quindi Canniamo subito Comunque La Tiana Motorista di bordo Costa 5 A un 3-3 Volante Attacco improvviso Ogni qualvolta Un aura Un equipaggiamento Che controlli Vengono messi In un cimitero Dal campo di battaglia Puoi far tornare Quella carta In mando suo proprietario All'inizio della prossima Sottofase finale Quindi è utile Per non disperdere I nostri potenziamenti Ironclad Slayer Costa 3 E un 3-2 Quando entra Puoi riprendere Un artefatto Equipaggiamento O un aura Dal tuo cimitero Nella tua mano Quindi anche questo qui Molto utile Specie per le aure Che non rimangono in campo Esatto Campione della fiamma Costa 2 Un 1-1 Travolgere Prende più 2-2 Per ogni aura D'equipaggiamento Adesso assegnati Quindi si potenzia Da solo Se gli metti Tutta la roba su Più roba gli sbatti su E più diventa grosso Quindi il campione È un ottimo Un ottimo Soldato Di questo mazzo Cercatore di reliquie Costa 2 Un 2-2 Rinomare a 1 Quando questa creatura Inflige da un Accombattimento A un giocatore Se non è rinomata Metti un più Non più su di essa E diventa rinomata Quindi un piccolo potenziamento Quando diventa rinomato Puoi passare Il rassegno Il tuo grimorio Per un equipaggiamento Rivelarlo Aggiungerlo a tua mano Quindi un tutorino Di equipaggiamento Un po' complicato Ma comunque Va a cercare roba Assaltatore della lama Infuocata Costa 1-1-1 Fintanto che Equipaggiato A rapidità E quando muori Fa danno pari La sua forza A un qualsiasi bersaglio Quindi utile Molto utile Giorca Caden Il trionfatore Costa 5-5-4 Con attacco improvviso A metallurgia Ovvero se controlliamo Troppi artefatti Nel suo caso Le creature che controlliamo Prendono più 3-0 Quindi un ottimo potenziamento Per le nostre creature Il nostro mini esercito Le lizard plates Costa 2 Sono 1-1 Sono una creatura E' artefatto equipaggiamento Ovvero E' una creatura Con doppio attacco A riconfigurare 2 Possiamo Assegnarla Come equipaggiamento A un'altra creatura O staccarla Da un'altra creatura Pagando sempre 2 Esatto E la creatura equipaggiata A doppio attacco Quindi E' una carta Versatile Possiamo equipaggiarla Visto che è un equipaggiamento Anche con Arden Alle nostre creature Quindi Versatile Poi abbiamo voluto Esagerare Abbiamo messo anche Morte gelida Il tiranno del gelo Costa 4 Un 4-3 Volante cautela Che quando muore Crea Morte gelida Lingua del gelo Una pedina Artefatto leggendario Equipaggiamento bianca Con La creatura equipaggiata Prende più 2-0 E Ogni volta La creatura equipaggiata Attacca Tappa la creatura No Tappa una creatura Versaglio Contro l'altra Da giocatore in difesa E si equipaggia 2 Quindi Morte gelida È un draghetto Che possiamo caricarlo Di equipaggiamenti E attaccare Tra l'altro Volare cautela Se non è male In più Nel caso muoia Ci lascia giù Una Non so Morte gelida Cosa sia Se è una spada Lingua del gelo Immagino sia una spada Perché Morte gelida La prende in mano Comunque interessante Poi abbiamo Odric Maresciallo del Lunarca Costa 4 Un 3-3 All'inizio di ogni combattimento Le creature che controlliano Attacco improvviso Fino alla fine del turno Se è una creatura Che controlli Attacco improvviso E lo stesso vale Per tocco letale Doppio attacco Rapidità Antimalocchio Indistruttibile Legame vitale Minacciare Raggiungere Furtigo Travolgere Cautela Per volare L'ho letto volare? Non l'ho letto Inizio con tocco letale Ah per volare Giusto La riga sopra Comunque in sostanza Se noi abbiamo Una creatura Molto equipaggiata di cose Grazie ad Odric Anche le altre Avranno queste abilità Quindi Non sono male Ispettore della fonderia Costa 3 E' un 3-2 Gli artefatti Che lanciamo Costano nemmeno Per essere lanciate Uno scontino Agli equipaggiamenti Male non fa L'occhio del pellegrino Ci rampa una terra Uno dei pochi rampini Del mazzo Ma qualcosa Ci voleva Danita Capaschen L'esemplare Costa 3-1-2-2 Attacco improvviso Cautela Legame vitale Le magie aure D'equipaggiamento Che lanciamo Costano nemmeno Per essere lanciate Quindi Anche questa Velocizza di molto Il mazzo Col The Forge Master Costa 2-1-2-2 Ogni colvolta Un'altra creatura Non token Che controlli Muore Si era incantata E equipaggiata Riprendela in mano Quindi Già qui Ci uccidono le creature Le riprendiamo in mano Le creature Token Che controlliamo Che sono incantate Equipaggiate Prendono Più uno Più uno Ma la cosa Che ci interessa È il fatto Di ripigliare in mano Le creature Che muoiono Quando sono equipaggiate Valdo custodio Valdo custodio della fiamma Costa 3-1-3-2 All'inizio del combattimento Nel tuo turno Per ogni aura Di equipaggiamento Assegnati a Valdo custodio della fiamma Creiamo un elementare 3-1 rosso Travolgere rapidità E lo risultiamo Alla fine Della prossima Sottofase finale Quindi Molto valido Perché se con Ardian Riusciamo a metterci su 5-6 equipaggiamenti Creiamo 5-6 elementari Quindi Anche questa Non è una pessima Cosa Apprendista fedele È un 2-1 rapido Che all'inizio del combattimento Ci crea un tottero 1-1 in colore volante E quella pedina Rapidità Fino a fine del turno Questa L'abbiamo messa Perché comunque I due comandanti Non costano tanto Avere un totterino Che fa O da Come dire O da La pedina sacrificabile Per stare sulla difensiva Oppure Se siamo sguarniti Abbiamo solo Arden E questo Creiamo un tottero Su cui metterci Tutte le nostre Frusaglie Per fare un attacco volante Molto pericoloso Bruenor Battlehammer È un guerriero nano Che costa 4 Un 5-3 Ogni creatura Che controlli Prende più 2-0 Per ogni equipaggiamento Segnato ad essa Già qui Tanta roba E possiamo pagare 0 Invece di pagare Il costo di equipaggiamento Della prima abilità Equipaggiare Che attiviamo In ogni turno Questo ci permette Anche di potenziare Più di una creatura In modo non dispendioso Con Arden Mettiamo tutto Quasi su una Con questa abilità Di Bruenor Potiamo potenziarla Sì Oppure Sì La mettiamo Che non era equipaggiata Esatto Reiav Maestro Fabbro Costa 2 A un 2-2 Ogni corvolta Una creatura Incantata Occipaggiata Che controlli Attacca Quella creatura A doppio attacco Fino alla fine del turno Schifo non ci fa Esatto Non poteva mancare Irohas Il dio della vittoria Un 7-4 Indistruttibile Fino a che non abbiamo La devozione A rosso E al bianco A 7 O più Non è una creatura Le nostre creature A non minacciare E previene tutto il danno Che verrebbe inflitto Alle creature attaccanti Che controlliamo Cosa non male Poi abbiamo Willet Anima d'acciaio L'ex comandante Esatto L'ex comandante Di Commander Legends Costa 3-1-2-2 Travolgere Quando Willet attacca Peschiamo una carta Per ogni aura E ogni equipaggiamento Assegnati ad esso Quindi Anche Willet È molto forte Perché si pesca poco In questo mazzo E quindi conviene Fare un bel attacco Con Willet Mestra di Spada Core Costa 2-1-1-1 Doppio attacco I guerrieri equipaggiati Che controlliano Doppio attacco Questo mazzo Ci sono parecchi guerrieri Non sono tutti Però insomma Qualcosina Lo fa Calcomando che È un guerriero Anche il nostro comandante Il grosso Sì sì Rocra è un guerriero Quindi se lo giochiamo Anche lui A doppio attacco Aurelia Esempio di giustizia Costa 4-1-2-5 Volante Che ha mentore Fortissimo All'inizio del combattimento Nel tuo turno Scegli fino a una creatura Molto grosse Predoni della costa Costa 3-1-0-3 Travolgere Quando attaccano Prendono Più 1-0 Fino a fine del turno Per ogni terra Controllata Dal giocatore In difesa Questo non è male In più Abyss a 6 Ovvero Pagando 6 mani Ed esigliandola Dal cimitero Per ogni avversario Criamo una predina Che è una Pedina Che è una copia Dei predoni Che sta attaccando Quel giocatore E Naturalmente Solo si può Attaccarlo Le pedine hanno rapidità Naturalmente Per poter attaccare subito Le sacrifichiamo All'inizio della prossima Sottofase finale Quindi anche questo qui È un bello schiaffo In faccia Lo scudiro di ottone È un mir A costo 3-1-3 Tappandolo Assegniamo Un equipaggiamento Che controlliamo Una creatura Che controlliamo Questo è utile Anche sulla difensiva Perché Possiamo tapparlo Anche nel turno Dell'avversario Quindi Una creatura Che era grossa Con tant'erati fatti Tappata Perché aveva attaccato Ne abbiamo un'altra Stappata Che non ha niente La mettiamo a lei Esatto Possiamo Anche tipo Lei para In risposta Si tappa Si assegna Un equipaggiamento Che può salvarlo Si può Si può Perché dice Non dice un'altra creatura Dice una creatura Quindi può mettere Un equipaggiamento Anche su di lei Si può Potenziare In difesa Ci sta Una carta Interessante L'aelia La lama riforgata Costa 3-1-2-2 Rapido Quando attacca Esigliamo la prima carta Del nostro gremorio E possiamo giocarla In questo turno Quando esigliamo Una o più carte Del gremorio E o dal cimitero Mettiamo un più uno Più uno Sulla elia Quindi utile Perché Ci dà più velocità Al mazzo Esigliando carte Esploratrice di Oreskos Costa 2-1-2-2 Quando entra Passiamo Il gremorio Per trovare Fino a x carte Pianura Dove x il numero Di giocatori Che controllano Più terre di noi Rivela quelle carte Aggiungere la tua mano Poi rimescola il gremorio Quindi un ottimo modo Per rampare terre Allora Diamo un sguardo Veloce Agli Arpefattini Quelli dei ramp Diciamo Chiamiamoli così Ai sassi Medallione Boros Costa 3 Aggiunge rosso o bianco Tappando 4 Tra i due colori E lui Lo sacrifichiamo Peschiamo 2 Sigillo Arcano Che lo conosciamo tutti L'anello solare Naturalmente Sigillo Boros Utilissimo Sfera del comandante E pietra della mente Insomma Una classica Serie di artefatti Comuni Nei mazzi bicolor Cosa Comunque Da non schifare Perché ci aiuteranno Anche perché I sassi Aiutano sempre A rampare Questo qui è un mazzo Che non rampa Di suo E quindi avere Qualche sasso Lì da parte Male Non fa Ah no Sicuramente Poi vediamo La sezione istantanee Stragonerie Ci abbiamo un po' Di vattine E qualche carta Che lavora Con equipaggiamenti Ad aura Allora Reazione a catena Ci sta Perché Se siamo messi male Noi che facciamo mazzi Questo che alla fine È un mazzo voltron Dovrebbe chiamarsi Quelli che sono basati Su potenziare Una sola creatura Se ce la seccano Di solito Siamo un po' Nelle più alte E quindi Una bella Vrata Come razione a catena Fa piazza pulita Di tutto il campo Di battaglia Male Non fa Naturalmente C'è anche rotta Un'altra vrata Che possiamo addirittura Lanciarla con lampo Se vogliamo Pagando due Mane in più Sostegno di sigarda Questo è un incantesimo Molto forte Perché a costo Uno Entra in campo E ci fa lanciare Le aure Di equipaggiamenti Come se adessero Lampo Mico Ogni col volto Un equipaggiamento Entra nel campo Di battaglia Sotto il tuo controllo Puoi segnare Una creatura Bersaglio Che controlli Quindi Oltre a lanciarli Con lampo Gli equipaggiamenti Vengono subito equipaggiati E' fortissimo Quindi molto forte Con i trick Talismano Boros Costa due Istantaneo Scegliamo uno Tra far quattro danni Un giocatore O un Prince Walker Dare indistruttibile Ai nostri permanenti Oppure dare doppio attacco A una creatura Quindi Classica carta Boros Che è anche Molto versatile Comunque Sì Equipaggio temerario La stragoneria Costo quattro Creiamo X pedine Nano Berserker Due e uno Rosse Dove X Il numero di veicoli Che controlliamo Più il numero di equipaggiamenti Che controlliamo E possiamo assegnare Possiamo assegnare Un equipaggiamento Che controlliamo Ognuna di quelle pedine Quindi ci facciamo Un esercito di nani A quali vengono assegnati I nostri equipaggiamenti E poi li mandiamo In combat In combat Non sono rapidi Non sono rapidi Beh Non sono rapidi Però Qualche equipaggiamento Da anche rapidità Quindi via Benfire Questo l'abbiamo messo Perché Insomma In un mazzo con rosso Uno sparino Ci vuole sempre Benfire È il migliore Perché lo carichiamo In base al mana Che abbiamo a disposizione E se il mana È 5 o più Non può essere Neanche counterato O il danno prevenuto Esatto Quindi ottimo sparino Per seccare un avversario Aprire l'armeria E gli incantesimi E gli incantesimi Path to exile Ci sta Esiliamo una creatura A costo 1 Il suo controllore Rampo una terra base Tappata Però chi se ne frega Tanto gliela esiliamo Ok Ritornare alla polvere Esiliamo un artematto Un incantesimo Se l'abbiamo lanciata Nella fase principale Possiamo esiliarne un altro Poi abbiamo Risposta E riscatto Risposta A costo 2 Fa come istantaneo 5 danni A una creatura Attaccante o bloccante Mentre il riscatto A costo 5 Vediamo se si vede meglio Sì Dice che le creature Che controlliamo Un attacco improvviso A cautela Fino alla fine del turno E dopo questa fase Principale C'è una fase Di combattimento addizionale Seguita da una fase Principale addizionale Quindi ci fa fare Una seconda combat Dopo una fase principale A costo 5 In questo mazzo Ci può stare E come Poi abbiamo Tramonto Distruggiamo tutte le creature Con forza pari o superiore a 3 E poi Alba Da non sottovalutare A costo 5 Riprendi in mano Tutte le creature Con forza pari o inferiore a 2 Dal nostro cimitero E ce ne sono parecchie Ce ne sono parecchie Perché sono tante creature Piccole Fastidiose Riusciamo a dargli una rapida Occhiata Se le ho messe qui Da parte Comunque vediamo che 2, 2, 1, 0 2, 1, 2 Questo non c'entra 2 Un 5 2 Però la maggior parte Quel che 3 Sono tanti 2, 1 Che ci possono tornare molto Molto utili Ci rimpinguiamo la mano E quindi si torna alla carica Concludiamo facendo vedere Le terre che abbiamo messo Che non sono Ci sono particolari Anche possiamo dire Allora Palazzo d'opale Palazzo d'opale Ci fa aggiungere Se tappiamo uno E lui Ci aggiungiamo mana Di un qualsiasi coloro D'identità del comandante E spendiamo questo Se spendiamo questo mana Per lanciare il comandante Entra con segnalini Più uno, più uno Pare il numero di volte Che è stato lanciato Considerando che Rocrag Costa zero E comunque Anche se muore Due o tre volte Non è un costo eccessivo Il palazzo d'opale È un'ottima carta In questo mazzo Perché ci permette Di fare entrare Un comandante Già potenziato Esatto E due o tre segnalini Fanno la differenza Poi Ax guard Harmony Intratappata Attinge un bianco Tappando Quattro elei Sacrificandola Cerchiamo nel grimorio Un'aura E o un equipaggiamento Li riveliamo E li mettiamo Nella nostra mano Quindi carta Molto molto utile Perché ci permette Di cercare due carte Che potenzieranno Le nostre creature Passaggio dei farabuti Tappiamo quattro elei Una creatura Non può essere bloccata In questo turno Fortissima Fortissima Perché se schiacchiamo In faccia direttamente Una nostra creaturina Agli altri C'è l'elusività È quello che manca In questo mazzo C'è la protezione La protezione Delle creature Aure Grazie alle aure Insomma Permette di essere elusivi Però questa qui Proprio Ci salva Alla grande Fortezza degli assassini Tappando Bianco rosso E lei Una creatura A bersaglio Prende più 2 Più più 0 E ha cautele Rapidità Fino alla fine Del turno Anche questa Non è male Sol di Mora Tappando quattro elei Una creatura A bersaglio A doppio attacco Fino alla fine Del turno Anche questa Ci può stare Poi adesso Vediamo un paio Di terre Che hanno Il doppio colore Abbiamo Questa qui Che è Quella La Painland Mi sembra Ci fa un danno Se vogliamo Tingere in mana Colorato Quindi molto bella Queste qui sono Le terre di Strix 7 Le Tapland di Strix 7 Che entrano tappate Ci danno il doppio colore Ma in late game Se tappiamo quattro E lei Ci fa profettizzare uno E' un qualcosa in più Che come terra Molto economica Non fa neanche schifo Esatto E pensando Ci potremmo fare un video Sulle terre economiche Quelle molto economiche Si può stare Fateci sapere Se vi può interessare Un video sulle terre Super economiche Da piazzare in commander In commander low cost Poi Di Rupo Entra tappato Ci fa fare una vita Attinge doppio colore Qui abbiamo La Bounce Land Boros Il Tempio Fruttetto esotico Che ci dà un mana Di un colore Di una terra Che un avversario Può aggiungere Sala dello studio Allora tappiamo uno e lei Aggiungiamo un mana Di un qualsiasi colore Se lo spendiamo Per lanciare il comandante Profettizziamo X Dove X è il numero di volte Che è stato lanciato Nella zona di comando Quindi come pazzo Parla Fa un'altra cosa Stesso discorso Ma ci fa profettizzare Che comunque Non è una cosa Che fa schifo Allora Entra tappato Entra Cioè tappandola La raggiunge in colore Tappandola Possiamo aggiungere un mana Colorato Ma solo per lanciare Artefatti O attivare Le abilità degli artefatti In più Modulare 1 Che quando entra Mi sembra che piazza Un segnalino Su una creatura Su una creatura Mi sembra Allora no Aspetta Modulare O su una creatura Quando entra C'è il segnalino Lui No No Secondo me lo piazza Possiamo piazzare Un segnalino Niente Ci informiamo E ve lo mettiamo In descrizione Modulare Su una era forte Il modulare Andiamo un'occhiata rapida Mentre Finiamo il video Poi abbiamo La fucina di eroi Tappa aggiunge Un mana In colore Oppure tappa Scegli un comandante bersaglio Che è entrato nel campo Di battaglia In questo turno E mettiamo Un più 1 Più 1 Su di esso Se una creatura Un segnalino Fidelità Quindi se abbiamo Mana in più Questa terra qui Ci permette Di piazzare Un segnalino Sul nostro comandante Poi abbiamo Un paio di terre Con ciclo Che schifo non fanno Perché comunque Questo mazzo Non ha bisogno Di tantissime terre Quindi A partita avanzata Nel caso Ci schiaffiamo giù Le terre con ciclo Che ce ne liberiamo Allora Modulare dice Questo permanente Entra in campo di battaglia Con il numero E 6 Più 1 Più 1 Su di esso In base Al numero di modulare Quando questo permanente Viene messo In un cimitero Dal campo di battaglia Puoi mettere Un signo Più 1 Su una creatura Che hai fatto bersaglio Però il signo Più 1 Presente su questo permanente Quindi Entra la terra Che ha il segnalino La terra Quando la terra muore Ok Niente Allora Poi vediamo L'avevo Mi ricordavo diversamente Niente Insomma Allora quella terra lì È un po' rivedibile In questo mazzo Però insomma Sì È un po' rivedibile Però Comunque lavora lo stesso Con gli artefatti Vuoto di Zalfier Quando entra Ci fa profetizzare Tempio della Dea Fasulla Quindi Che ci aggiunge Un po' di mani in più Passaggio delle Miriadi Lo conosciamo Che sacrificandolo Arambiamo due terre E poi abbiamo Le due terre Artefatto Visto che c'era Qualche carta Con metallurgia Abbiamo pensato Di piazzarcile dentro Che Sì Ce le possono distruggere Come Con degli spac artefatti Però ci danno anche Il vantaggio Della metallurgia Che non erano male Gli effetti Che si attivavano 3 4 5 6 Montagne E 1 2 3 pianure Niente Questo qui È il nostro mazzo Di Arden E Rocrag Mazzo che In uno contro uno Diciamo Magari è un po' più Performante Esatto Perché In molti Subisce gli effetti Che Che gestiscono Di più il tavolo Comunque È un mazzo Che non costa tanto Perché Gli artefatti Cioè Noi vi abbiamo fatto vedere Che abbiamo messo Gli artefatti Che abbiamo reperito In vari mazzi Commander Che abbiamo smontato O Comunque Se avete preso Il mazzo Rosso Bianco Di Commander Legends Che non costava Neanche tanto Anzi Si trova anche In offerta Lo si può trovare Anche a 16 20 euro Quello là È già ben fornito Però Arden e Rocrag Sono molto più forti Secondo noi Di Willem Che l'abbiamo messo Comunque dentro Nelle 100 carte Quindi è un mazzo Valido Che consigliamo Non costa tanto E Divertente È divertente Perché Far vedere Un comandante Grosso Che mina La soddisfazione Certo Fateci sapere Se l'avete per caso Provato O se avete Intenzione di farlo Per l'antimetà È tutto Al prossimo video E aspettateci Che siccome Probabilmente Sarà il fine settimana Del Del Magic Fest Del Comand Fest E noi saremo Là A Bologna A Bologna Se ci siete Scriveteci Anche su Instagram Che vediamo di trovarci Vi fare due chiacchiere E Niente Quindi Lo vedrete Che è sabato Domenica Aspettateci In settimana Con dei nuovi video Dove Che vi porteremo Riguardanti Il Comand Fest O quello che abbiamo fatto Se abbiamo fatto Qualche video Insieme ai nostri amici Con cui Trovarci là Quindi Dall'antimetà è tutto Al prossimo video Al prossimo video